Che cosa hai fatto? Dillo, cosa hai fatto? Ho preso una fregatura. Cioè che hai fatto? Ho comprato alcuni capi di abbigliamento e sono contraffatti. Bravo, sei veramente un genio. Cosa ti avevo detto di fare? Di andare su certilogo.com Per? Per controllare se i capi erano falsi o meno. E tu ovviamente non l'hai fatto. No. E ora ti arrangi. Mi hanno fregato. Invece dovevo andare su certilogo.com Inserire il codice che è contenuto all'interno del capo di abbigliamento e controllare se il capo è originale o meno. Ma io non l'ho fatto perché la commessa... Perché la commessa è bella. Pessima come cosa. Vabbè, l'importante è che ora hai imparato la lezione la prossima volta prima di comprare un capo. Magari per colpa di una commessa bella ci penserai 20 volte e andrei a certificarlo su internet. Lo prometto. Per ora basta piangere. Grazie. Grazie.